Poi ho iniziato a lavorare nell'azienda di mio padre, nella parte amministrativa. Nel 1998 sono stata ingaggiata dalla Yamaha come team manager. Abbiamo avuto degli ottimi risultati, tra cui mi fratello è vicecampione del mondo e io mi occupavo di tutta la logistica, dell'organizzazione della squadra, degli sponsor. Ho viaggiato per il mondo visitando diversi paesi e per me è stata un'esperienza bellissima. Sicuramente l'ambiente era molto stimolante, era divertente, un ambiente molto giovane. Mi ha permesso di conoscere varie culture, diverse persone, avere amici in tutto il mondo. È stata una bellissima esperienza della mia vita. Nel tempo libro mi piace molto stare con Ashraf, mio compagno, che è molto divertente. Mi piace leggere. Per anni ho fatto anche percorsi spirituali, sono stata in India. Mi piace meditare. So di poter fare tanto bene alla gente che ha problemi di salute, aiutare le persone. Mi piace molto sentire la parte del cuore, più che la parte... Certo, è importante anche saper lavorare bene. È stata come una rinascita, perché vedere delle persone in un ambiente così bello, con tanto amore, una grande famiglia, così come viene spiegato anche qui da noi, siamo una grande famiglia. E io subito mi sono sentita parte di questa famiglia. E l'ho dimostrato in questi quattro mesi, perché io proprio mi sento ASEA. Io sono Cinzia Pirovano, sono entusiasta della vita e amo ASEA. Io sono Cinzia Pirovano, sono entusiasta della vita e amo ASEA.